Bambini buongiorno, questo è l'inizio del vivaio che io coltivo, vivaio di agrumi, queste sono le piante da innestare per fare la produzione nuova. Queste piccole sono quelle che ho piantato quest'anno, che ancora devono crescere. Questo che c'è davanti a me è il pozzo da dove io tiro l'acqua per risicare le piante. Questo corridoio che arriva fino in fondo è una parte del terreno che io coltivo. Questi sacchetti pieni di terra vuoti, li devo riempire, cioè devo piantare le piantine piccole per farle crescere. Dove c'è questo terreno c'è questi sacchetti coperti, io ho messo i semi di arancia amaro per farli nascere, per piantarle dopo. Queste sono già le piante pronte per essere piantate. da mettere nei sacchetti. Queste sono due piantine di cunguat o mandarino cinese. Ora qui incominciamo con le piante più grosse. Sono tutte varietà di mandarini, di arance, di limoni che sono tutte pronte per la vendita.